Diamo inizio al convegno che oggi è il ventunesimo convegno. Noi abbiamo fatto 20 convegni dal 1995 al 2015 e quindi con oggi inizia una nuova serie, cioè il ventunesimo convegno. Ringraziamo voi tutti che siete intervenuti numerosissimi e ringraziamo gli sponsor che hanno reso possibile l'organizzazione di questo convegno, quindi Deutsche Bank, Ernst & Young, Borsa Italiana e poi i vari altri sponsor che sono Cupro, Montenapoleone, Mini, Foppiani, Gritti Group, Nava e SEA. A questo punto chiamerei al microfono l'ingegnere Flavio Valeri che è il CEO di Deutsche Bank a Milano in Italia. Grazie mille, grazie mille Presidente Pambianco, grazie mille e soprattutto benvenuto a tutti. Giusto due parole sul titolo di questa conferenza, innovazione e velocità. Ci abbiamo pensato molto con i Pambianco e devo dire che è stata una scelta condivisa anche abbastanza rapidamente, alla luce soprattutto dei dati di mercato, un mercato dei beni di lusso nel suo complesso che avrà una crescita leggermente moderata, per quanto poi ognuno comincia a definire il lusso in maniera differente. Adesso vedo degli studi molto accreditati che cominciano a inserire nel mercato del lusso estremo, anche l'arte, gli aerei, i privati, il supercar, quindi non solo il personal luxury come spesso si definiva nel passato, ma è un'accezione un pochettino più estesa. Comunque sicuramente è un mercato che ha bisogno di un po' di riflessione, probabilmente ha bisogno di un filo di innovazione e di velocità, il famoso slogan attuale, see now, buy now, cioè lo vedo subito e lo compro subito, ha delle accezioni poi molto complicate per l'esecuzione di questo trend dal punto di vista della logistica, dal punto di vista delle vendite, dal punto di vista della produzione. E quindi è un momento particolare per noi, dicevo, un mercato flattish, nuove richieste da parte dei consumatori e ancora una volta un'accezione del mercato che si sta espandendo. Però guardando il lato positivo è un settore che continua ad essere trainante, circa il 5% del PIL nel nostro Paese è riferibile al settore del lusso, più di un milione di persone in qualche modo sono coinvolte in questo settore e quindi io spero che da questo convegno possano uscire due o tre spunti di riflessione che magari poi potremo portare a Roma nei vari ministeri per avere un pochettino più di sostegno e di sensibilità a questo settore. Quindi in quest'ottica vi do il benvenuto, è una grande gioia ancora una volta stare qui con il gruppo Pambianco, i relatori sono tutti di grandissimo livello e li inviterei a questo punto a salire sul palco. Grazie ancora.